E' inutile cercare il tesoro, cioè la felicità, uguale felicità, nelle cose che noi non abbiamo. La felicità è già nelle cose che abbiamo. E noi non saremo felici quando avremo la Ferrari, se non siamo già felici ora che abbiamo la panda dell'82, ok? Quindi, siate felici della panda dell'82. E anche di chi sei, ovviamente. Non sarai felice quando sarai illuminato. Non sarai mai illuminato finché non trovi la felicità nel momento presente. Ci sono persone con cui spesso nel mondo spirituale, e non me lo dite se siete voi perché sta cosa mi fa incazzare, che dicono, no, ma questa è la mia ultima incarnazione. Dopo questa non voglio più sapere, non mi incarnerò mai più. Ok? Questo è il discorso proprio che io inizio a ribollire dentro, no? E io dico, ma come puoi pensare di non incarnarti più se non hai imparato la lezione base, la lezione più importante di tutte che si deve imparare quando ci si incarna in questo corpo? E qual è sta lezione? È essere felice nel qui ed ora. Come fai a pensare, no, ma io sarò felice quando mi... Io muoio e mi reincarnerò in altri mondi. Mi reincarnerò in mondi dove tutto c'è rispetto, c'è amore, c'è gratitudine. Non sto schifo di fogna dove siamo finiti adesso qua. Ma se tu non riesci a vederle queste cose nel qui ed ora, che già ci sono nella tua vita, ma in quali mondi vuoi andare? Non esistono altri mondi, esiste solo questo mondo, esiste solo questa realtà, questo qui ed ora. Ok, per quello che ci interessa in questo momento, esiste solo il qui ed ora. Poi c'è tanto altro nell'universo multidimensionale, quindi sicuramente ci saranno altre dimensioni, altri mondi, eccetera. Però quei mondi li possiamo portare nella nostra vita nel momento presente, non dobbiamo aspettare di morire per reincarnarci in un altro posto, con un'altra dimensione, ok? Noi siamo come le radio, ci sintonizziamo automaticamente sulle diverse frequenze, e quindi le diverse dimensioni. E un'altra cosa bellissima che hai detto, Giuseppe, più noi sbanderiamo ai 4-20 che non ci rincarneremo più, più stiamo dichiarando proprio il nostro bassissimo livello di consapevolezza. Perché proprio l'essere consapevole, l'essere realizzato, è felice qui e ora. Che felice non vuol dire che ti va sempre tutto bene, vuol dire che so riconoscere la funzionalità in quello che accade, e quindi accetto anche quello che non mi piace. Quello è l'essere illuminato, l'essere realizzato, e da un essere realizzato non sentirete mai dire io non torno più, io non mi incarno più.